Da un lato il gioco legale, fonte di lavoro e garanzia di sicurezza e rispetto delle regole. Dall'altro quello illegale ed online, fuori dal controllo ed un rischio concreto in particolare per le giovani generazioni. Un tema affrontato a Brindisi con gli studenti dell'Istituto Morvillo Falcone, in un momento di confronto con le massime autorità territoriali, a difesa della legalità ed un gioco sicuro senza azzardo. Questo convegno assume una particolare rilevanza perché, soprattutto tra le giovani generazioni, anche per la facile accessibilità che i giovani hanno ormai al gioco, vuoi con lo smartphone o con internet eccetera, diciamo che il pericolo è veramente reale. Il gioco è qualcosa di utile perché incita la competizione, quindi il gioco è uno degli elementi che fa crescere, pensiamo all'attività ludica, quella sportiva, anche quello è gioco. Quindi il gioco in sé non è qualcosa che va rifiutato. Esistono modalità di gioco regolamentate per legge che rientrano nel concetto di gioco pubblico, però è chiaro che non bisogna abusare di alcuni tipi di gioco che possono indurre alle dipendenze. Innanzitutto noi partecipiamo molto volentieri a queste iniziative perché ci consentono di aiutare il mondo della scuola nel veicolare, ragazzi, i principi della legalità. Sicuramente la nostra attenzione è rivolta anche al gioco online, siamo preparati per farlo e ci stiamo attrezzando per farlo sempre meglio.